e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi sono qui vi faccio vedere questo nuovo recupere che ho fatto in dvd e sto parlando del primo capitolo di dead pool ecco qua il primo capitolo di dead pool qui abbiamo la copertina con la maschera di dead pool diviso questa è la copertina ragazzi qui abbiamo il laterale dead pool con dead pool disteso qui abbiamo il retro qua un po di trama alcune immagini del film che ci sono anche alcune scene a uso fumetto come possiamo vedere qui poi i contenuti speciali che potete mettere pausa e vi riguardate varie informazioni e questo ragazzi è il retro andiamo adesso a vedere l'interno qui c'è un libretto di gamestop cerca il tuo preferito porta questo volantino da gamestop puoi avere tre funko pop a prezzo di due questo ormai non credo che sia più valido perché è vecchissimo infatti produzione valida dal 10 giugno 2016 al 31 agosto 2016 ormai è andata gamestop power to players da gamestop trovi molti altri prodotti ecco qua pubblicità con un bel volantino e poi qui ragazzi c'è il dischetto dead pool eccolo qui e niente ragazzi non ti piace aumenta iscriviti al canale noi come sempre ci vediamo prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao ciao